La Disney Features presenta un classico caso di rapimento di gatti. Sono spariti! Ma è terribile! Che cosa sarà di me? Il furfante ha combinato un guai. E' lui il rapigatto. I gatti stanno scappando. Venite tutti fuori, spicciatemi! Ma qualcuno ha deciso di aiutarli. Carica! E' avventura! Oh no! Imprevisti! Amore! Roba da femminici! Musica! Ma questo è ridicolo! Pazzesco! Ma è stanza l'osso! Ma più di ogni altra cosa... Lancia! ...è un divertentissimo film Disney! Tutti quanti! Tutti quanti! Tutti quanti vogliono fare! Alleluia! Tutti quanti! Tutti quanti! Tutti quanti! Il cartone animato Disney più gattoso che ci sia! ... I Punktti quanti! Fini! Unอย'o mirallo! Torn controllo! Eee! Acabellame!